Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep Si caro? il fantasma che è stato evocato perfetto ma qualcuno ha bisogno di cura di ora eh già ma anche tu Ale eh sì sì non so perché boh vabbè ma no ma c'era uno o altro ciao io voglio sapere dove ma è arrivato un nemico è arrivato un nemico c'è che non c'era da dove dance dance do you wanna dance 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 ma pecca i cazzi eh giusto quanto bugata però sta spada perché? no imprende quando non dovrebbe non posso neanche non learlo l'attacco grande più esatto ma è ma che attacco è mi scusi che ti ha serrato così ma è a parte che mi ha attirato a sé inutile che dico cosa devo dire pippa battuta così c'è un buco glorioso ma dio del gattino piccolino grazie ma ne vatti te dite i benti cojones no ero io davanti a te non è vero eri tu si no non è vero venite li ho triggerati tutti a youtube tripla sei sei? sì sì è una benghidea no? la stessa musica di darci osuna sono gli stessi gargogli? ah porca trota mi fanno molto più cagare quelli qui fanno un'arma diversa ahia nosed ii 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 ripetiti ma anche io voglio farlo un po' di bagnetta sì e vabbè ma porca puttana non riesco a curarmi beh ciao capito? eh ok ok che succede? ma è impazzito ma che ridere che ci urla ma sempre così e perché hanno tanta distanza ci siete? sì ok bang strong però intrec nooo pensavo fossero esplosivi niente ma meno male che non lo sono eh vabbè quanto tempo per entrare in una nebbia ma è passato un minuto ma dio mio quanti impazziti perchè non mi dà il target? bene no perchè è bugato ma ma porco il dio demonio dai occhio ah no no eh perchè non gli ho fatto danni che gli sono passato in mezzo pare 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 vabbè tutti se ne fregano della mia presenza sti qua eh allora la prossima volta me ne sto a casa ma sento io i urni di bocca fortissimo ma sono io o anche te maicon io li tre io sento una voce di bocca sono quella di bocca fortissima la mia voce la mia voce del personaggio o la mia mia? del personaggio del personaggio ma io non la sento io invece sento te che fai uff ah scoppando da da qui oh no NANI omae wa mou shindeiru ma sei un crepio ho tre guadigioni mediche quattro migrate e otto guadigioni normale mi hanno messo anche la stessa musica di Dark Souls 1 quella è proprio identica ahia ma cacca non suono a me ma che ma non hanno hitbox questi coi ma non hanno hitbox questi coi ma non hanno hitbox vabbè però non su cioè non hanno contraccolpi e nulla sui colpi e gliene frega il cazzo che tu li stia picchiando oppure no si alla fine benissimo beh adesso il boschetto del cacciatore ok c'è il colosseo sopra la montagna eh si adesso noi dovremmo andare qua soings meno male che l'ho guardata perchè non stavo registrando vediamoci dei cojoni Ale? ah Ale è rimasto indietro eh stavo guardando il telefono merda fai con comodo tranquillo eh ma sono sono delle tif sono delle tif comunque tranquilliche ma io stavo guardando il telefono perchè ti è rifermato non vi ho visto neanche arrivare vabbè non si può usare il target tutti gioco stai adesso lo capirai e non sono tanti i minion si vedevano tipo 69 nemici vabbè ma sono skeletri shot no? c'è shot tutti un oggettino perché non avessi mai pensato a un boss che sono dei nemici basi bella dark souls 2 la fungica vale del raccolto c'è una signorina è anche una più tettona ma alla faccia qualche rumore è stato? ah è un cane lel ah un dio ah gaga perché dio c'è un po' un pinaro venga roenn venga vabbè ciao roenni nonni 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 eccoci le nostre strade si sono riunite mi si ma si può fare back step a queste cose? si 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 è vergognoso ma ma largano ma non ma non si può te tadaaa finito ma 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 che cazzo è il lock che vabbè lurk 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 vabbè che porta roenni 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 non sei neanche morto non sei neanche morto oh questo ciccione di merda e qua ci sono le butane ma che qua c'è kurama uuuu ma hai gol e kurama si 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 e sono proprio io alle alle vai non mi ha preso come ma fatta ma fatta non fa il pezzo oddio lo sa vabbè ma sono deboli eh quanto è salto 1000 hp comunque è stato benissimo se no l'avrei combattuto l'avessi visto l'avrei combattuto porca puttana che cringe fare gli sconti su daxos 2 cioè beh son morto che cringe con un coso i guanti per i sanguinamenti che cringe non si potre più e se io vado qui a sinistra ma faccio ci sono io la dog oh madonna coretta tetta mmm ma che la chiede? bella cosa adesso è io mi raccomando ma non dichemi niente cioè mi interessa sento i balli happy party train to go sento con martello ma ancora lui ma dov'è? ma che palle vabbè qua sono morto ne ha scioltato ti ha fatto quella mossa bene oh no ma guarda te sono una prugna sono che devo andarmi a riprendere assolutamente le mie anime sappiatelo vedi da me vedi da me non è un mimic no mimic no però è forse una trappolozza di questi putti con lo benino perchè siamo in mare lo benino oh nooo chissà come mai ma ci sta dentro stai pronto perchè questo qua è il boss più bello lì ma è uguale a quello che c'è in shazam perchè ci sono i demoni quei peccati capcazzo quei peccati capcazzo vabbè questo è ben agomo no cupidice no ma che ne so ah è vero della cupidice golosa è la golosità ma dai ma con quattro asciate di bombo ma grazie tadaaa ma è in questo cadavere nooo ma ma